E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, di solito non faccio questi video perché la reazione della gente è, vabbè, praticamente Rischio di essere ammazzato perché l'ultima volta che ho fatto un video sulle schede video Mi sono beccato 700.000 insulti La premessa è che chiaramente non sono in possesso in prima persona dei prodotti di cui stiamo andando a parlare Quindi non sono sicuramente la fonte più attendibile del web Però mi piacerebbe sempre parlare con voi del nuovo 9900X di AMD Il Ryzen che, insomma, è uscito o sta per uscire, insomma, fra poco E che è stato messo in comparazione con il mitico 7008X3D, se non erro, eh Prendetela, come? E ascoltatemi bene Sturatevi le orecchie, prendetela come una discussione da bar Non sono qui a consigliarvi di comprare nulla o a presentarvi dei test tecnici perché, appunto, non posso farlo perché non ce l'ho per le mani Ok? Detto questo, partiamo I test che ho visto in rete, quindi è roba che ho visto in rete, ragazzi, se sono sbagliati non è colpa mia Prendetela con il tizio che le ha fatti Sono stati effettuati con una RTX 490 RAM DDR5, chiaramente a 7200 MHz E, chiaramente, come si fa A 1080p, in quanto, come spero tutti sappiate A questa risoluzione il carico ricade sulla CPU Il Ryzen 9 9900X era un 10% più lento del 7008X3D Con un gap, ehm, di prestazioni nei giochi come, ehm, CitySys CitySys del cazzo Skylines 2, che non so che cazzo di gioco sia Cyberpunk 2077 Quello schifo di Fortnite Hogwarts Legacy Posso dire che, però, magari, essendo nuovi, magari, di pacca, come si suol dire Forse mancano gli aggiornamenti BIOS per far rendere al massimo la CPU Fatemi sapere se ho detto una boiata, eh Però, non mi ammazzate, come al solito Perché qua, dici una cosa sull'hardware Spuntano tutti i sapientoni del web I fenomeni e quant'altro Quindi, cioè, teniamo sempre i toni Abbastanza tranquilli È una discussione, cioè Se sbaglio qualcosa non succede niente, no? Ok Tuttavia, in giochi come Alan Wake 2 COD, Warzone 2 e Starfield C'era poca differenza tra le due CPU Salendo, invece, di risoluzione E passando al 1440p, quindi il 2K Il 7800X3D si mostra il 6% più veloce Sempre con una 490 sotto Molto simili, diciamo che poi sono i risultati anche in 4K Alla fine, la differenza tra i due non è poi così enorme Per quanto riguarda, invece, le temperature si attestano Sui 67 gradi Non riesco a parlare Più o meno Una manciata di gradi in più rispetto ai 63 del 7800X3D Poi, è chiara la questione, ragazzi, che le temperature Oltre ad essere influenzate dal vostro sistema di raffreddamento Vi consiglio sempre per questi processori Ve lo consiglio proprio spassionatamente Un kit Ayo Cioè, non ci mettete Quei cosi ad aria che è ridicolo E poi, tra l'altro, le temperature Schizzano a 7000 gradi Ok? A meno che non mettiate un dissipatore ad aria molto grande Ok? Però quello poi, insomma Il concetto Ayo O dissipatore ad aria Quello poi dipende sempre Anche dal gusto personale Non sto dicendo Che i dissipatori ad aria fanno schifo E gli Ayo sono meglio Sto dicendo che per questi processori Vi consiglio Per esperienza anche personale E diciamo che poi Dipende anche dai giochi, ragazzi Perché se ci buttate sotto Che sa un cyberpunk O roba un pochettino più vesante E' ovvio che le temperature Si alzano notevolmente Però AMD A parità di consumi Secondo me Dà una pista agli Intel E lo dico Da possessore Di uno scaldino Come il 14900K Non lo avessi mai comprato, ragazzi Cioè Se qualcuno lo vuole Io lo vendo Cioè E' un forno E non dite il contrario Perché c'è chi dice Ah no Ma Un colbo Portacci su Cioè Praticamente D'inverno Scalda Lo studio E Quasi Cioè Dovete metterci N'azoto liquido Per tenerlo a bada Porca miseria Cioè Ragazzi Non l'ho overclockato Perché Se lo overclockassi Non lo so Famo il botto Quindi Cioè Scalda veramente tanto E AMD In quanto a consumi A parità poi Di prestazioni E' top Secondo me Cioè Se dovete Ad oggi Assemblarvi Un pc Lasciate perdere Completamente Gli intel Andate su I ryzen Che Insomma Sono veramente Veramente Degli ottimi Processori Quello Quello Che posso Dirvi È che È presto Per dire Meglio L'una O l'altra Secondo me Dipende Anche dal Fattore Prezzo Cioè Dovrebbero Essere Venduti Il primo Cioè Il 9900X Sui 485 euro Su per giù E il 7800X3D Che è già presente Sul mercato Da parecchio Tempo Si attesta Più o meno Sui 359 euro Su per giù E probabilmente Scenderà Di prezzo Forse Non sono un fan Dei Di questa 3D cache Diciamo In quanto Mi pare che Non in tutti i giochi Entrano in azione Però Sicuramente Danno una bella mano Quando Utilizzate In conclusione Sempre dando un giudizio Da bar Ragazzi Io da utente medio Cioè Parlo da utente medio Cioè Non sono Uno che overclocka Un professionista Eccetera Tutti sti fenomeni Da baraccone Eccetera Utente medio Che usa il pc Si mette lì Chiappa e gioca Ecco Questo no? Beh Io Per scegliere La cpu Più adatta Per il mio pc Da gaming Dovessi Farlo oggi Mi baserei Soprattutto sul prezzo Perché non vedo Tra i due Tutta questa Grossa Differenza Ok Quindi Cioè Tutto il resto Ragazzi Sono Sono pippe mentale Cioè Praticamente I processori A livello di prestazioni Voglio dire Stanno lì Non è che C'è tutta Sta grossa Differenza Magari L'unica Differenza È questa 3d cache Però Se magari In futuro Di questa CPU O anche Delle altre Però Adesso abbiamo Parlato Della comparazione Tra queste due Però Esca Magari Un 9900X 3d O come Cacchio Si chiama Beh Sicuramente Non sarebbe Male Da prendere In considerazione Ok Detto questo Fatemi sapere Sempre educatamente Che cosa ne pensate Sotto nei commenti Il video Finisce qui Come al solito Vi invito iscrivervi al canale Lasciate un bel like O dislike Commentate Condividete Attivate la campanella Dei notifiche Non perdervi gli altri video E supportate il canale Vi ricordo Che saremo live Anche su tiktok Per sapere Quando saremo live Guardate le nostre storie Instagram E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ah che bella Fisciata Che bella Ah che bella Così Che andiamo